Ecco qui un video di Bear che trema. Se guardate bene si può percepire un leggero tremorio della zampa posteriore. Ma perché Bear trema? Beh, ti sto per dire che non trema né per paura né per freddo, ma per un altro motivo che vedremo poi. Infatti, a discapito di quanto si può credere, il tremore può significare tante cose e ci sono almeno sette motivi per il quale il cane può tremare. In questo video vedremo esattamente quali sono questi motivi e cercheremo di capire perché Bear stava tremando in quel video là e soprattutto come può esserti utile sapere queste cose se hai notato il tuo cane tremare. Ma chi sono io per farlo? Sono Gianluca Nucci, un educatore cinofilo, e in questo canale ti racconterò un po' il mio modo di intendere questo lavoro, di approcciarmi alla relazione con il cane, all'educazione del cane, sia con Bear che qui sotto, sia con i miei clienti. E ti racconterò altre curiosità sui cani per comprenderlo meglio e vivere con lui una vita più serena, più felice e più appagante possibile. Ok, iniziamo. Che cos'è effettivamente il tremore? Il tremore è sempre associato, molto spesso, o al freddo, quindi quando un cane lo si vide tremare si pensa che abbia freddo, oppure che ha paura. Che sì, è vero, sono due cause del tremore, ma effettivamente se andiamo a analizzare il tremore, che cos'è? Il tremore non è altro che una rapidissima contrazione e rilassamento dei muscoli. Cioè, quando vi da, ad esempio, la zampa che trema, sta succedendo praticamente che i muscoli stanno contraendo e rilassando in modo molto rapido, molto veloce. Ma perché avviene questo? Ma allora, proviamo a riflettere. Proviamo a riflettere, ad esempio, sul freddo. Quando il cane trema per il freddo, sostanzialmente, con questa rapida contrazione e rilassamento dei muscoli, quindi questo rapido movimento dei muscoli, quello che avviene è che il corpo, con questo movimento, produce energia. E producendo energia, produce calore. Quindi, sostanzialmente, il corpo sta reagendo al freddo, facendo tremare i muscoli, producendo calore e quindi andando a combattere il freddo. Questa, infatti, è la prima causa del tremore, cioè il freddo. Veniamo alla causa numero due, la paura. Anche qui, come sappiamo benissimo, i cani possono tremare per paura. Ma perché avviene questo? Perché c'è molta tensione muscolare. Quando il corpo del cane è teso, quindi, sostanzialmente, essendoci quella tensione muscolare, il corpo spesso va a reagire a quella cosa lì, cercando di non far perdurare troppo tempo questa tensione muscolare, quindi andando a far contrarre i muscoli e rilassare in modo continuo, in modo ripetuto, proprio per preservare la salute muscolare. Quindi, anche qui, il corpo sta reagendo a un qualcosa, in questo caso la paura, cercando di far contrarre e rilassare i muscoli, proprio per preservarne l'integrità muscolare. Perché i muscoli troppo tesi, per troppo tempo, possono andare poi a causare problemi. La causa numero tre ha più o meno lo stesso principio da un punto di vista muscolare. Infatti, la terza causa per la quale il cane può tremare è addirittura un'estrema eccitazione, un'estrema contentezza, quasi un'euforia. Ma perché avviene questo? Proprio perché il cane, in uno stato emotivo molto eccitato, va appunto ad avere una tensione muscolare molto forte e quindi il corpo reagisce allo stesso modo di come reagirebbe per la paura, ma per cause diverse. Semplicemente il principio che sta alla base è proprio quello, quindi sempre un discorso muscolare. Quindi, quando un cane è molto eccitato, non per forza in modo positivo, quindi non per forza euforia o contentezza, ma semplicemente quando c'è un'eccitazione molto intensa, potrebbe tremare. La causa numero quattro potrebbe essere una questione puramente fisica. Potrebbe essere per esempio dettato dalla vecchiaia, potrebbe essere per esempio dettato da una posizione scorretta o da una posizione mantenuta per tanto tempo. Chi fa questo lavoro lo sa, si può notare qualche volta con qualche cane, quando gli si chiede un seduto e magari il cane si mette in una posizione un po' strana o è predisposta a quella cosa lì, si nota che una delle due zampe anteriori magari può tremare. Quale dovuto, insomma, semplicemente ad un discorso di posizione, cioè la posizione che il corpo ha assunto. La causa numero cinque invece è una causa un po' più fastidiosa per il cane perché semplicemente è quando il cane se la sta facendo sotto. Ci sono cani che magari quando vengono lasciati da solo in casa, che rimangono solo in casa per 8-10 ore e hanno un impellente bisogno di espletare appunto i loro bisogni, iniziano a tremare. Quindi, per esempio, se in un momento che il tuo cane rientro sta tremando e non esce da un po', potrebbe essere semplicemente che se la stia facendo sotto. Quindi giù di corsa a fare i bisogni. La causa numero sei invece è molto più subdola e alcune volte purtroppo succede ed è un avvelenamento. Ci sono dei tipi di avvelenamento che come conseguenze danno il tremore, cioè il tremore è uno dei sintomi da avvelenamento. Quindi in quel caso, se le cause che ho citato prima non sono possibili o comunque sono state escluse, si può pensare appunto che magari il cane sia stato avvelenato o abbia mangiato qualcosa di velenoso per lui. E la causa numero sette è una causa un po' più rara ed è una causa dovuta alle patologie. Ci sono delle patologie che causano dei tremori, come per esempio gli attacchi epilettici, l'epilessia o delle infiammazioni cerebrali. Ok, ora che ti ho detto queste sette cause, secondo te qual è la causa per cui Bear stava tremando nel video? Ti faccio vedere adesso il pezzo successivo del video, così magari ti è più chiaro il contesto. Eccolo qui. Hai visto? Hai visto che ci sono dei gatti? Ecco, ti faccio uno spoiler. Bear non ha paura dei gatti, quindi secondo te qual è il motivo per cui c'era del tremore nella sua zappa posteriore? Pensaci un po'. Beh, il motivo per cui Bear stava tremando in questa situazione era dell'eccitazione, non in senso positivo, ma perché Bear quando vede dei gatti si attiva molto, si eccita molto. Vorrebbe in realtà farli fuori tutti. E quindi lì c'era molta tensione muscolare e quindi il corpo ha reagito causandoli quel tremore nella zampa posteriore. Quindi, insomma, se oggi hai scoperto che il tremore può non essere solo per paura o per freddo, che per carità rimangono le cause principali, ma può essere anche per altri motivi, come per esempio nel caso di Bear, ti invito a mettere mi piace a questo video, a iscriverti al canale e soprattutto fammi sapere quando è che inutile il tuo cane tremare. Fammi sapere in che occasioni inutile il tuo cane tremare. E adesso che hai scoperto questa cosa, quali cause ti vengono in mente per le quali trema? Fammelo sapere nei commenti. Ti invito inoltre a seguirmi anche su Instagram, troverai contenuti più brevi e delle riflessioni sull'approccio, l'educazione e la vita insieme al cane. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!